Avete presente quando siete ciccioni? Io sì, per questo Granarolo ci ha creato Oggi Puoi, lo stracchino con meno 30% di sale e meno 50% di grassi. Oggi potete fare schifo, fate schifo con me. Andiamo come sempre a spacchettarlo, questo stracchino in particolare. Scade fra 4 giorni, quindi aspettative sono alte. Lo vedo un po' moschetto rispetto a quanto è grossa la vaschetta. Cioè, una vaschetta così grossa per metà stracchino. Mmm, spreco di plastica. Per la consistenza mi sembra molto buona. I parametri, come sempre, sono tre. Tra l'altro dal prossimo video vi metterò in descrizione un Excel con tutti i parametri delle precedenti stracchini. Così teniamo traccia un attimo dei punteggi e quali sono effettivamente i migliori e i peggiori stracchini. Mi chiederete perché non da questo video? Fatevi i cazzi vostri, andiamo a mangiare. Mmm. 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 Consistenza ottima. Davvero ottima. Consistenza un 5 tranquillamente. E' molto sapido. E' molto sapido, come piace a me. Molto sapido. La smite è 5. Direte, mmm, lo stracchino granarolo oggi poi sta scalando la classifica. Non è per niente dolce. Il sapore è veramente poco rotondo. Mmm. Non ha sapore. Uno. Abbiamo 5-5-1. Comunque con 11 punti si classifica nella media. Sapità perfetta. Consistenza perfetta non sa di niente. come tutte le cose dietetiche. Ascoltate a me ragazzi. Volete mangiare bene? Dovete stare ciccioni. style. Buona guarda. Ciao. Buona guarda.